senza luce non vediamo dove andiamo non riusciamo a cogliere ciò che è buono o insensato per la nostra vita la luce rischiara la nostra coscienza ci mostra il nostro peccato e ci invita alla conversione gesù nostra luce illuminaci sempre affinché non ci perdiamo nelle tenebre della disperazione ti affidiamo quelle persone che non riescono a vedere a causa della depressione e delle varie crisi che si stanno attraversando ti affidiamo quelli che si nascondono dalla luce perché non vogliono guardarsi nel profondo del cuore impegniamoci davvero a camminare nella luce che fa diventare tangibile l'esistenza di dio agli altri siamo noi la luce di cristo in mezzo ai fratelli vuoi camminare nella luce anche se questo significa far vedere il tuo vero volto agli altri nascondi qualcosa a dio se sincero con lui nella preghiera nella confessione